Solo il tempestivo intervento prima della polizia penitenziaria, poi del personale sanitario, ha evitato un tragico epilogo per il tentato suicidio di Daniela Lorusso, meglio nota alle cronache come Lady Kumadin, protagonista di diverse vicende giudiziarie, prima fra tutte quella relativa al tentato omicidio del secondo marito, per il quale è stata condannata in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione. Attualmente Lorusso è detenuta nel carcere di Teramo per aver distrutto alcuni fascicoli del processo che ora pende in corte d'appello sul tentato omicidio. Lorusso, verso le ore 22 di ieri, ha cercato di togliersi la vita inalando una bomboletta di gas del fornelletto da campeggio in usa ai detenuti per riscaldare le vivande. L'intervento degli agenti della penitenziaria che le hanno strappato la busta di plastica che si era legata al collo con all'interno la bomboletta di gas aperta ha evitato il peggio. Qualche giorno fa c'è stata la prima udienza davanti ai giudici del secondo grado per il processo sul tentato omicidio e il nuovo avvocato della donna Gianfranco Di Marcello ha chiesto ed ottenuto per la sua assistita una perizia psichiatrica per capire se effettivamente esistano problemi e fino a che punto arrivino in relazione sia alla pericolosità sociale sia al fatto di essere in grado di seguire il processo in corso. Ieri poi c'è stato il gesto suicida della donna nell'ala femminile di Castronio.